La preoccupazione dei democratici è quella di stringere i tempi e di arrivare al voto prima possibile dopo la mossa di Berlusconi da tutti definita irresponsabile. Sono bastati due giorni dal suo ritorno in campo, come dice lui, e Berlusconi ha trascinato il paese nella crisi, ha fatto cadere il governo Monti, rischia di compromettere i sacrifici dolorosi che gli italiani hanno fatti in questo anno per salvare l'economia nazionale. Adesso non c'è più tempo da perdere, si approvi la legge di stabilità e si va dalle elezioni.